Laura da una parte magari c'è un po' di dispiacere perché sopra 2-0 si poteva provare a portare casa 3 punti però è importantissima la reazione nel tie break e soprattutto nel finale quando Montichiari aveva recuperato i 3 punti di vantaggio Eh sì, oggi era importante vincere, questa abbiamo fatto, credo che adesso guardiamo questa partita guardiamo cosa dobbiamo fare meglio perché alla fine questa vittoria doveva essere un 3-0 cioè, tra virgolette, però comunque credo che in partita siamo incrusciuti, l'ultima seta abbiamo fatto vedere che squadra siamo Vittoria è importante anche per il morale, due punti per la classifica però dare continuità a riuscire a trovare dei successi in campionato poi aiuta per la parte finale Sì, da questo punto conta solo vincere, vabbè, si poteva fare meglio però credo che adesso è importante solo quello e piano piano arriviamo anche un po' più riposati che adesso si vede che siamo comunque un po' stanche però ci lavoriamo sopra e ci riposiamo bene e così piano piano cresciamo ancora È stata poca possibilità magari per entrare in ritmo stasera da una parte e dall'altra un po' gli errori iniziali, pochi attacchi, chissà se siete andati avanti con neisse e muri è stata una partita un po' spezzettata Sì, in queste partite comunque devi prendere un po' di rischio è vero che abbiamo sbagliato tante palloni sicura sempre all'inizio del set perché alla fine volevamo sempre arrivare a riprenderle però si vede che abbiamo sbagliato un po' troppo oggi e credo che dobbiamo solo pensare a quello magari giocare un po' di più e invece di fare errori e prendere rischio Adesso ci sono le gare casalinghe da sfruttare in una settimana arrivano Monza e Novara che oggi ha perso dopo tanto tempo Sì, adesso domani ci riposiamo che credo che abbiamo bisogno però adesso guardiamo ogni partita dopo partita perché bisogna vincere ognuna e vediamo adesso come ci organizziamo per Monza però dobbiamo vincere